Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle due monete viola per la settimana 4 della stagione 3 di Fortnite capitolo 2. La prima moneta si trova qui, sopra Parco Pacifico, dove c'è questa collinetta. Troverete degli alberi, vicino agli alberi c'è la moneta, cioè non potete sbagliarvi perché si vede, ed è la prima moneta viola. In questa settimana ci sono solo due monete viola, quindi la prima moneta, eccola, la vedete già dall'alto, e si trova sulla parte alta di Parco Pacifico. Quindi atterrate e la raccogliete. Vediamo ora dove si trova la seconda. La seconda moneta si trova praticamente a fattoria frenetica, in questo boschetto, vedete? Andate qui e la trovate nel boschetto, su una fermata del bus tipo, quindi è vicino fattoria frenetica e allo stesso tempo l'autorità ex agenzia. Quindi andate qui, non potete sbagliarvi, cioè si vede già dall'alto, vedete? Eccola qua. Questa è la seconda e ultima moneta viola per questa settimana.